Città metropolitana e il sindaco Giuseppe Falcomatà lavoro con una serie di deliberazioni mirate all'efficientamento della macchina amministrativa e al conseguente miglioramento della vita dei cittadini sul territorio metropolitano. Un importante documento riguarda il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà, approvato nei giorni scorsi con l'assistenza del vice segretario dell'ente Paolo Morisani. Si tratta di un passo fondamentale ai fini della funzionalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, resosi necessario in virtù della riforma costituzionale che ha istituito le città metropolitane mutando l'ente provincia che ha sede a Palazzo Alvaro. Il cambiamento infatti ha portato all'ampliamento delle funzioni come previsto dalla legge del Rio e di riflesso ad una più complessa articolazione degli uffici, fattore che ha reso necessaria una riarticolazione che rendesse possibile il mantenimento di un'elevata efficienza della macchina amministrativa. L'approvazione del regolamento infatti costituisce una basse strutturale indispensabile per poter azionare i vari servizi amministrativi all'interno e all'esterno del nuovo organismo. La volontà dell'amministrazione metropolitana appare quella di ristabilire le posizioni organizzative che riguardano i funzionari di Palazzo Alvaro, un potenziamento di figure burocratiche che in passato erano presenti anche a Palazzo San Giorgio ma che era stato soppresso dall'amministrazione provinciale. Le posizioni organizzative premiali andranno ai funzionari responsabili dei procedimenti e gravati quindi da responsabilità burocratiche maggiori saranno destinate ai servizi semplici e ai servizi complessi di Palazzo Alvaro e testimonieranno la volontà di far funzionare meglio l'apparato burocratico. Per approvare invece la nuova macro struttura e la rotazione dei dirigenti bisognerà aspettare l'approvazione del bilancio in scadenza il prossimo 30 settembre.